E ti c'è la testa da... Oh no! Oh! Come... No! Scusa Ceccia mi hai fatto vedere un infarto! No! Perché l'hai ucciso? Oh! 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 Ha un cappelletto in là da da! Oh! Oh! Ok quindi... Io sono Gisius Io sono Ceccia Ciao! Ok allora e oggi siamo su una nuova appa Si chiama Danger of Plenty Questa qua è una CTM Come era la The Kaizo Covers E visto che la prima non la continuiamo più Perché non ci abbiamo sbatti Abbiamo deciso di sceglierne un'altra Visto che comunque la prima è stata una specie di prova per noi E allora vediamo un attimo di illustrare la mappa Allora... Benvenuti ad Danger of Plenty Danger of Plenty regole standard Fine... Complete... Peaceful... Ok si allora in pratica Ci dice di usare... Di stare in easy e non in peaceful almeno Ehm... Di completare... Di trovare e completare il Victory Monument O ha smesso di piovere Ehm... Possiamo usare le stringhe degli... Dei... Dei ragni per farci i letti Ehm... Ci sono delle Endercess per facilitare tutto E possiamo craftare tutto quello che ci serve per sopravvivere Io direi qua intorno già abbiamo Sub Supplies Oh mio dio... Un blaze rod che fa dieci... Che è potenza dieci... Ehm... Un blaze rod che fa dieci... Che è potenza dieci... Ehm... Si... Va bene... Mamma mia... Ah è uno stick è vero... La devo prendere... E' uno stick semplicissimo Lo devo prendere anche io Io direi che dite se facciamo un giretto su per le cascate Perché magari si sa mai che ci nasconda qualcosa il... Ok... Perché sappiamo... Si si è anch'io su pensato Sappiamo da Decaizzo Cadras che... Le CTM eh... Nascondono un mucchio di roba Perché mi sta già calando la fanno? Io lo ammazzo quel maiale lì tra un po' Si eh... Io ho quattro cosciò Dico solo che quel... Quel maiale... Trovate qualcosa... Trovate qualcosa... Dico solo che quel maiale... Chi lo ammazza... L'ammazzo... Ho trovato la cesta... Ci siamo intesi... Due mele d'oro e otto slug Oh! Ottimo! Quasi quasi mi porterei anche la cesta... Si sa mai... Mi spiegate dove l'avete trovata? Qua! Guarda qua! Ah qua! E' perchè noi siamo geni... Non so se c'è qualcos'altro... Volete salire fino in cima o... Si... Sto salendo fino in cima... Si... Io me ne vado... Io me ne vado... Oh mio Dio! No 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 no... Ok... Giù 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 giù... Andiamo giù... Oh! Cioè se riuscito... Non prendere l'acqua... Iniziamo bene... All'unica parte in cui non c'è l'acqua... Ok... Qua c'è un maiale... Che dice... The impossible channel... Si... Sei pazzo... Nooo... Nooo... Siccome è impossible... Non la facciamo... Ci rubiamo... Ehi... Mi rubo la pozione... E' entrato Ale... E' entrato Ale... A caso... Ciao... Allora... Noi salutiamo Ale... E direi che possiamo iniziare la mappa... Eh... Giù per il buco... Per il buco... Oh mio Dio... Quanto ruuto... Oh mio Dio... Oddio... Vines... Avevo visto la mappa... Blocchi per le galline... Oddio... Blocchi per le galline... Ah... Molto... Molto interessante... Allora io direi di fare una cosa semplice... Mamma quanto mi lagga... Direi di fare una cosa molto semplice... Lasciamo tutta la roba... Giù nella cesta... Parte i blocchi... Ecco... Qua c'è il vuoto... Vi avviso... E infatti... Per quello è... Blocchi per le galline... Aspettate un attimo... Aspettate... Non ho capito cosa dobbiamo fare... Eh... Andare avanti penso... Come in ogni ctm... Ok... C'è una strada... Cosa... Ah... Ok... Ecco... Forse ho già capito la cagata che ha fatto... Tuttura con te... Ok... Dobbiamo cercare di usare almeno blocchi possibili... Eh... Allora qua... Lasci il vuoto e saltiamo... Che erano blocchi... Che saltiamo... Ti ricordi qua una ctm questa? Ok... Oh... Oh... Di che ho la cesta? La vista però... Facciamo il giro che sembra più abbordabile dall'altra parte... Ma è vero... Dovete andare piano... Stiamo andando piano... Quanti blocchi hai ancora? Tre... E mi sa che li uso... Per questo... Oh... Oh... Accendini... Stavo cadendo... Eh... Che dite... No... Allora... Che dite... Qualcuno di noi si rifà la strada indietro... Mi infido di Squid... Ti rifai la strada indietro... E porti la roba nella cesta... Là in fondo... Ok... Io sono molto affidabile... No... Io mi infido di me perchè sa fare parkour... A differenza di me... Cosa hai fatto? Non usare quell'accendino in modo in breve... Uh... Stavo cadendo giù... Bene... Io non mi la... Doro... No... 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 Cosa colpo perchè... Tu mi vedemene doro... Oh... Sponato un coso! Allora... L'accendino io me lo tengo uno... Ciccio è morto... No... 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 Cattiva idea... La mela d'oro no... Colpa mia... Ok... E' andato giù... E' andato giù... E' andato giù... Dobbiamo torciare tutto... Aspetta... Io tengo soltanto delle robe che c'era... Il cibo... Io ho perso tutto... Io ho perso tutto... Ehm... Questo può farti felice... Vai ti dice... Seguimi che rifacciamo la stradina... Si perchè ho paura... Fia... Appena... Riusciamo a farci un piccone... Veniamo qua... Che c'è un sac... Ci sono un sacco di... Slab... Ma dove si va? Ehm... Segui... Dove ho illuminato... Sto illuminando dappertutto praticamente... Tutte cose di netherrack liberi... Li sto illuminando... Oh... Trovata chest... No! Ok... Niente... Tranquillo... Ma quanto mi lagga... Sto già odiando questa mappa... Eh... Non è neanche... Bella... Ragazzi... La serie è finita... Andate in pace... Vediamo... Ho trovato la cesta... Ho trovato la cesta... Eh... Quella che ho trovato io... C'è l'arco... C'è l'arco... Ok... Lascialo giù... Lascialo giù... Sì... Il cappello si fotta... Allora... Ah... Potenza 1... Affilatezza 1... C'è un libro... Bow blade instruction... Aspetta... Cosa sta? Non lo voglio sapere... Aspetta... Bow blade instruction manual... Passo 1... Tieni bow blade nella tua mano... Passo 2... Tira indietro la stringa... Passo 3... E ti c'è la testa... Oh... Oh... Dove... No... Scusa... Mi hai fatto venire un infarto... No... Perché l'hai ucciso? Oh... C'è uno scheletro... Come ce la cadiamo con lo scheletro? Arco... Grazie... L'arco... Il boom blade... Vedo che avete capito... Sì... Abbiamo capito... Ci sono mostri... Sì... Ma se esplode la cassa... Siamo fottuti... Ah... Vicino alla cassa lì... Quella cassa là? Eh... Quella cassa lì... Simo... Mi serve un favore da te adesso... Aiuto... Io se riesco... Se riesco... Vado a dare una mano a Cece... C'è pieno... Tu... Torcifica il più possibile... Ok? No... Serve anche uno con l'accendino... Che accende tutte le nether... Eh... Eh... Sto facendo io... Eh... Ma devi tornare indietro a farlo... Ah... Devo tornare indietro... Eh... Perché abbiamo lasciato le prime... Spente... Ok lo zombie... Ok lo zombie... Ah no... È lì... Ok... Te lo faccio fuori io... Dov'è che è lo zombie? Oh no... No... Non cadere con l'accendino... Ti prego... Oh... Sono uscito ad ammazzare uno scheletro... Oddio... Una mosca... No... Mi è caduto un bacio perugina... Oh... Oh mio dio... Ho già trovato... Visto cosa c'era la prossima cesta... Allora... Ok... Ce l'ha fatta... Cosa c'è scritto su... Da ogni cosa può nascere l'amore... Oh... Oh... Contracolpo... Cosa è successo? No... Ho sbagliato... Ho dato fuoco... Ah... Pensavo che fosse sceso dalla lava... Ma... Ce ce che figlio ha fatto? Ce ce sta risolvendo un attimo il parkour... Eh... Tu sai che è questo? Contracolpo 2 e indistrugibilità 5... La madonna... Flash... Flippa di merda... L'ho vista... No... Mi hai avvenenato... Non ci credo... Dai... È una trappola semplicissima... Sì... Anche io non ce l'ho a bere... Come hai fatto a salirci sotto? L'ho vista... Dai... Stavo per dire... Guarda... Flash... Stavo per dire... Guarda... Flash... Flippa... Oh... Freccia... 23 freccia... Opzione di instant damage... Che possiamo utilizzare contro ceccia... Che stronzo... Oh... 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 Ho capito... L'ho vista anch'io... Ho già preso un po' panini... Ah... Ok... Vai... Vai... Setta il checkpoint... Eh... No dai... C'è uno zombie... Ma che palle... Eh... Veniamo ad aiutarti... Eh... Che si setta... Lì... Oh... C'è anche qua uno zombie... Oh... Scusa che ho pinchiato... Eh... Oh... No... Vero un attimo... Vero un attimo... Ciao... È stato un piacere... No... È di Slab... Li stavo usando per chiudere... Aspetta... Io ho lasciato legno che fa più tre danni... Eh... 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 Ante le trozate là! Ahaha... Ahahah... No... Lo scheletro! Oh mio Dio Sono i mob Ecco tu tienili che io mi rifugio un po' la vita Grazie Aiuto Mi servono i miei slab Sennò questi qua continuano ad arrivare Fammi andare Fermo 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 Ma voi avete settato il checkpoint No 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 finita male papà E dove è finita la roba secondo te? Nel fuoco naturalmente No invece no No è giù Ce l'ho io la roba Arrivo dove è il checkpoint Voglio checkpointarmi anche E' passato addirittura un è E' più avanti Aiuto Aiuto E' la fin del mondo Ok Ho bloccato Tranquilli Ecco chiude i blocchi Oh Oh dai Blocca qua Blocca qua Blocca qua Blocca qua No Anche io voglio dei materiali eh Eh ok Usiamola Io spacco il blocco Uno di noi corre e va a prendere più più cosa che più Glowstone che può Perché è l'unica fonte di luce che abbiamo Ok? Ok Gli altri non ho capito Gli altri devono usare l'accellino per fare luce Gli altri devono usare l'accellino per fare luce Vi chiedo un secondo sul No 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 Vaffanculo sono morto Aia Iniziamo con me Aia Dai dovrebbe essere piena sta cosa di Glowstone No 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 Niente merda E mori Ok sono chiuso sono chiuso sono nella cosa di Glowstone Oh 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 Esploso un creeper posso prendere la Glowstone Esploso un creeper di fianco al checkpoint Vabbè tanto tranquillo il blocco non si distrugge Il common block non si distrugge Quanti sono? Non ce la faccio Ho chiuso eh Si aspetta ho preso un po' di Glowstone io io scappo Ditemi quando dovete rientrare Oh cazzo Pronto Riapri 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 Eh non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio devi aprire tu Eh sto prendendo Ci sono tre scheletri dentro Oh mazzati Dai apri 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 aiutami 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 Ok allora No 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 Apri c'è apri c'è apri c'è apri c'è apri c'è Sto prendo Non si chiude non si apri Sono morto Allora dovete apri per me allora adesso ok? Eh si è già aperto E sta entrando una malanga di zombie Perfetto